Salve a tutti ragazzi, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con un video molto veloce per farvi vedere una cosa particolare Le divise della Deluxe Edition Io non ho la Deluxe Edition, però sapete che se andate a prenotare il gioco, tra i bonus prenotazioni proprio dalle edizioni migliori, quindi Deluxe e Super Deluxe Ci sono delle divise speciali foot Non sono mai state specificate, hanno detto che erano quelle create dagli artisti che hanno curato anche la colonna sonora Ma se voi non avete prenotato la Deluxe Edition, tecnicamente non dovreste poterle avere Ma Electronic Arts ha ben deciso di inserirle come premi riscattabili dal catalogo eSports Football Club Queste sono quindi le divise, vi ho messo qualche clip per farvele vedere in game Mi piacciono tanto, devo dire hanno fatto un buon lavoro Quella di Zed è un pochino tamarra, anzi un po' tanto tamarra Però le altre sono molto molto belle e almeno nelle prime settimane ho idea che le vedremo tanto Ce ne sono tante di divise speciali quest'anno da riscattare Vi parlerò di come ottenerle quando verranno rilasciate di volta in volta nel gioco Vi segnalo per gli utenti Xbox One che è disponibile la divisa EA Access Come si ottiene questa divisa? Si va nelle sfide creazione rosa semplicemente E c'è una sfida che si chiama proprio EA Access Bisogna completare il gruppo di sfide perché sono tre mi pare squadre da completare E facendo così riuscite a ottenervi la vostra bellissima divisa Per gli utenti PlayStation 4 mi dispiace non potete ottenerla Gli utenti PC non possono ottenerla ma hanno una divisa Origin Access che ha un altro colore Anche loro quindi hanno una divisa unica Ditemi cosa ne pensate di queste divise Noi ci vedremo presto, ciao a tutti Ciao a tutti